Musica Incidente in via Stefano Bruda a Busano questa mattina poco prima delle 11. Un Mitsubishi Pajero condotto da un uomo di 78 anni di frassinetto diretto a fronte ha frenato bruscamente alla vista della rotonda e perso il controllo dell'auto. In fuoristrada ha invaso la corsia opposta ed è uscita di strada ribaltandosi. Un automobilista ha visto la scena e si è fermato a prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rivarolo Canavese e la croce bianca del Canavese. L'uomo è fortunatamente rimasto illeso. L'uomo è fortunato.